Ciao, qui Danilo Maruca di Dritto alla Meta.it e in questo video vediamo quali sono le tre leve che determinano ogni singola tua azione e che gestiscono i tuoi stati d'animo. Partiamo dalla leva numero uno, la fisiologia. Per fisiologia si intende non solo la postura del corpo ma anche le espressioni facciali e tutto ciò che insomma riguarda il tuo corpo. È molto importante la fisiologia perché determina i tuoi stati d'animo in quanto i nostri stati d'animo sono neuroassociati con le posizioni del nostro corpo. Per farti capire se una persona è triste come te le immagini e se una persona è felice come te le immagini. Quando una persona è sicura di sé come te le immagini? Beh sicuramente te le immagini in maniera diversa ma soprattutto ti immagini posture del loro corpo molto diverse. Per esempio una persona triste avrà il petto verso avanti, lo sguardo rivolto verso il passo, un volto molto serio, le spalle piegate in avanti. Starà diciamo così ed è abbastanza normale il fatto che poi diventa triste. Una persona felice come te le immagini con un bel sorriso, con lo sguardo verso l'orizzonte, con un linguaggio del corpo più aperto. Una persona sicura di sé come te le immagini? Beh con il petto in fuori, con lo sguardo sempre verso l'orizzonte, con le spalle ancora più aperte eccetera. Questo vuol dire che se tu prendi una persona triste, quindi tutta a protesi in avanti e gli fai assumere la postura di una persona felice, che cosa succede? Succede che a livello statistico in circa due minuti questa persona cambia il suo stato d'animo. Certo non passa dalla tristezza alla felicità più assoluta però migliora il suo stato d'animo. E la cosa importante degli stati d'animo è che non esiste una persona senza risorse, esistono stati d'animo senza risorse e spesso le persone che vogliono cambiare la propria vita non ci riescono perché passano troppo tempo i stati d'animo poco produttivi. Quando una persona per esempio mi insulta e io sono in uno stato d'animo come la tranquillità è una cosa. Se una persona invece mi insulta e io sono arrabbiato agisco in maniera diversa. Se una persona ha un esame ed è tranquillo è una cosa. Se una persona ha un esame ed è in preda all'ansia è un'altra. Le azioni che farà cambiano in base allo stato d'animo in cui si trova. Gestire i tuoi stati d'animo è fondamentale e la leva più veloce che puoi utilizzare è la fisiologia. Ogni singola volta in cui hai bisogno di essere più sicuro di te, hai un esame, devi battere un calcio di rigore, devi suonare una solo in un concerto eccetera, ogni volta che ti serve usa una fisiologia potenziante. Come è fatta questa fisiologia? Petto in fuori, spalle larghe, sguardo verso l'orizzonte, fai un bel sorriso e in questo modo diventerai più sicuro di te. Per quanto riguarda la fisiologia ci sono tanti altri aspetti ma questi sono i più importanti, sono quelli in base sulla quale devi andare a lavorare. La seconda leva che gestisce le tue azioni e soprattutto determina i tuoi stati d'animo sono le parole che utilizzi. Quando noi parliamo di qualcosa la etichettiamo in un certo modo e questo influenza notevolmente il modo in cui noi vediamo quella cosa perché ogni singolo evento non ha significato se non quello che noi gli andiamo ad attribuire e glielo attribuiamo tramite le parole che utilizziamo per descrivere quella particolare cosa. Se per esempio guardo un film e dico questo film è carino è un discorso. Se dico questo film è straordinario cambia totalmente perché ho usato parole diverse. Quando tu dici ho un problema stai in qualche modo limitando le tue capacità di risolvere quella situazione perché senti la differenza tra il dire ho un problema piuttosto che dire ho una sfida da risolvere. Nel dire ho un problema ti senti un po' con le spalle al muro. Questo è un altro modo di dire che le persone utilizzano è che non ha nessun senso perché per quanto la situazione in cui ti ritrovi può essere abbastanza difficile non ti aiuta il dirti che ti trovi con le spalle al muro. Dovessi trovare qualcos'altro da dirti in maniera tale da poter accedere a maggiori risorse. Il linguaggio che utilizzi determina se accedi a determinate risorse oppure no. La differenza che c'è tra ho un problema piuttosto che ho una sfida da risolvere. Puoi anche usare ho un'opportunità o una situazione in cui posso tirare fuori la grinta che ho dentro. Puoi cambiare la frase ho un problema in quello che desideri. L'importante è che utilizzi qualcosa che ti fa sentire meglio e che soprattutto ti fa accedere a maggiori risorse. Questo esempio vale per qualsiasi cosa. La maggior parte delle persone usa metafore molto limitanti e usa parole molto limitanti. Quello che devi iniziare a fare come esercizio è quello di prenderti un mese dove ogni settimana quindi per quattro settimane lavori su degli aspetti diversi e vai a cancellare per ogni singola settimana una parola che ti limita. La prima parola che puoi andare ad eliminare è la parola problema e la puoi sostituire con la parola sfida da risolvere. Le altre le lascio trovare a te e individuo anche il modo in cui le puoi sostituire. E' quello che fai per esempio per questa settimana tutte le volte che usi la parola problema ti tiri un leggero pizzicotto e ricambi la frase la riformuli subito utilizzando una sfida da risolvere. Puoi utilizzare il metodo che vuoi l'importante è che cambi questa parola e la elimini dal tuo vocabolario e ne aggiungi un'altra più utile e adatta a te. Una volta che hai fatto questo la prima settimana individua un'altra parola che utilizzi magari spesso e la cambi e la sostituisci. Puoi fare la stessa cosa alla fine del mese avrai cambiato quattro parole. Non sono tantissime ma ti assicuro che sono già qualcosa di molto utile. La terza leva che influenza tutti i nostri stati d'animo è il nostro focus mentale cioè dove poniamo la nostra attenzione per la maggior parte del tempo. La domanda è per la maggior parte del tuo tempo dov'è diretta la tua attenzione? Sui problemi? Sulle soluzioni? Sui tuoi difetti? Sulle tue capacità? Sui difetti delle altre persone? Oppure sulle loro qualità? Su tutto ciò che non funziona nella tua vita? O su ciò per cui provi gratitudine? Perché questo cambia totalmente in quanto se il tuo focus per la maggior parte del tuo tempo è diretto sui tuoi problemi? Sui difetti delle altre persone? È chiaro che il tuo stato d'animo non può migliorare e non puoi accedere a stati d'animo produttivi. Quello che devi iniziare a fare è gestire il tuo focus. Come fai a gestirlo? Non c'è modo migliore che gestirlo tramite le domande. Le domande che noi ci poniamo cambiano subito il posto in cui stiamo dirigendo il nostro focus. Io adesso sto parlando, tu mi stai ascoltando e il tuo focus molto probabilmente è diretto a quello che ti sto dicendo. Ma guarda come faccio a cambiare subito il tuo focus. Mi basta chiederti che cosa hai mangiato ieri a pranzo? Cosa hai mangiato ieri a pranzo? Nel momento in cui ti fermi a riflettere il tuo focus mentale è passato da quello che stavo dicendo prima a cercare di ricordarti che cosa hai mangiato ieri a pranzo? Questo ti fa capire quanto le domande abbiano il potere di cambiare il tuo focus e lo fanno in pochissimo tempo. Da uno stato d'animo negativo come può essere l'ansia, la paura e l'avere dubbi al spostarti ad uno stato d'animo positivo molte volte ti basta farti una singola domanda. Una domanda giusta, una domanda intelligente posta al momento giusto può fare un'enorme differenza. Naturalmente quando una persona ha molta paura se l'emozione è molto intensa non cambi quello stato d'animo grazie al potere di una sola domanda ma ti assicuro che iniziando a farti delle domande tu inizierai a gestire molto meglio i tuoi stati d'animo. Quello che devi iniziare a fare è porti delle domande che ti facciano cambiare il tuo focus mentale dai problemi a dirigerlo alle soluzioni. La strategia migliore che si può utilizzare per utilizzare le domande a proprio favore è quello di inserire all'interno della domanda una supposizione una presupposizione di come vuoi comportarti. Ti faccio degli esempi. Se io mi chiedo come mai sono così pieno di energia? Come mai sono così pieno di energia? Poiché il cervello deve trovare delle risposte alle domande che gli fai e ogni volta che tu fai una domanda al tuo cervello il cervello cerca la risposta ti sarà sicuramente capitato di incontrare una persona di cui non ti ricordi il nome. Quando questa persona se ne va tu già prima ti hai richiesto ma come si chiama? Te lo continui a chiedere un altro po' poi te ne dimentichi fai tutt'altro e poi ti arriva ah sì si chiama Sara si chiama Giovanna si chiama Francesco eccetera. Questo vuol dire che il tuo cervello anche mentre stavi facendo altro stava pensando e stava cercando di rispondere alla domanda che gli hai posto. poiché il cervello risponde sempre alle domande che gli poni se tu ti inizi a porre delle domande dove spieghi al cervello come vuoi comportarti come vuoi sentirti come vuoi essere in questo modo aumenti le possibilità di comportarti effettivamente in quel modo. Quando tu ti poni per esempio la domanda come mai sono così pieno di energia? Come mai oggi mi sento un vulcano pieno di energia? In questo modo il tuo cervello dovrà trovare delle risposte a questa domanda e magari dirà oggi ti senti pieno di energia perché hai fatto una colazione abbondante. Non importa poi il motivo che il cervello va a trovare la cosa importante è che il cervello accetta la presupposizione che tu gli hai dato e lo puoi utilizzare per qualsiasi cosa. Puoi dirti come mai oggi sono così sicuro di me? Come mai oggi ho un'alta autostima? Come mai oggi mi sento così immotivato? Come mai oggi mi sento così bene? Come mai oggi le cose mi riescono facilmente? Puoi dirti qualsiasi cosa e questo aumenterà le possibilità che il cervello accetta per vero questa presupposizione e quindi poi ti inizierai a comportarti di conseguenza. Ricapitolando le tre leve che puoi utilizzare sono la fisiologia che è la leva più immediata e più rapida che puoi utilizzare per cambiare i tuoi stati d'animo. La seconda leva sono le parole e soprattutto le metafore che utilizzi. Fai attenzione al modo in cui esprimi le situazioni che stai vivendo e cerca soprattutto di eliminare una parola negativa che utilizzi, una parola per settimana e fallo per un mese. E la terza leva che dirige i tuoi stati d'animo è il tuo focus mentale e per dirigere il tuo focus mentale abbiamo visto che puoi utilizzare il potere delle domande. Come lo si fa ad utilizzare? Inserendo nelle domande delle presupposizioni di come vuoi comportarti perché questo è un metodo che puoi utilizzare per condizionare il tuo cervello a prendere per vero qualcosa e poi sarà il tuo corpo automaticamente ad agire di conseguenza. Ti ricordo che se vuoi essere seguito da me nel tuo percorso di crescita personale puoi candidarti alle mie sessioni di allenamento mentale. Se verrai accettato lavoreremo per cambiare le tue abitudini, diventare più felice e nell'insegnarti le migliori strategie di crescita personale che puoi utilizzare per cambiare rapidamente la tua vita. Prima di salutarti ti ricordo che un aspetto molto importante per quanto riguarda la gestione degli stati d'animo è l'ambiente che frequenti più spesso e per ambiente si intende i video che guardi, i film che vedi, le persone che frequenti e tutto ciò che ti circonda a livello esterno. Anche la città in cui vivi, i posti che frequenti più spesso eccetera. Questo ha un enorme impatto sui stati d'animo perché impatta sui nostri stati d'animo sia la musica che ascoltiamo, sia le persone che frequentiamo, sia i film che vediamo. Una persona solitamente non tiene in considerazione quanto sia importante per esempio i video che guarda, non tiene in considerazione quanto sia importante la musica che ascolta, ma questo cambia tutto perché una persona che ascolta musica rock e metal dalla mattina alla sera avrà un determinato stato d'animo, mentre una persona che ascolta musica classica tutto il giorno avrà uno stato d'animo diverso, magari più tranquillo. Quindi puoi iniziare ad utilizzare per esempio la musica che è uno dei tanti fattori dell'ambiente esterno, la puoi utilizzare a tuo favore. Puoi iniziare ad utilizzare la musica in base allo stato d'animo che vuoi provare. Ipotizziamo che tu voglia essere sicuro di te, puoi iniziare ad ascoltare musica che ti motiva. Se invece vuoi essere tranquillo e rilassato puoi ascoltare musica classica. Dovresti scegliere la musica che ascolti in base a quale stato d'animo vuoi provare, a quale stato d'animo per lo più ti è più utile per fare azioni costanti per il raggiungimento del tuo obiettivo. Tieni in considerazione questo concetto e poi ricordati che se guardi dei film che ti ispirano, se guardi dei video spesso che ti ispirano, questo ti aiuterà a creare degli stati d'animo potenzianti in maniera costante. Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!